Edino Pagliari, il nuovo allenatore del Lecce, 57 anni, marchigiano, è lui il tecnico che guiderà la squadra giallorossa dal 6 gennaio. Domani alle 12 la presentazione al Via del Mare, mentre alle 15 il tecnico marchigiano dirigerà il primo allenamento, sempre sul terreno dello stadio leccese. Il nuovo allenatore giallorosso ha firmato un contratto fino a giugno con eventuale rinnovo per la prossima stagione, qualora dovesse centrare la promozione in Serie B. La società leccese è arrivata a Dino Pagliari dopo aver incassato il no di Alessandro Calori con l'allenatore marchigiano, si è giunti ad un accordo. Pagliari ha praticamente una famiglia nel pallone, Giovanni è stato allenatore dell'Aquila, Silvio è un procuratore, mentre Ivo è un preparatore atletico. La sua ultima esperienza in panchina è stata quella di Pisa, lasciata un anno fa quando la società pisana decise di esonerarlo. Da ex attaccante, ha giocato in A anche nella Fiorentina, ha cominciato la carriera di allenatore nelle giovanili della Ternana nei primi anni 90. Ha guidato anche Vispesaro, Maceratese, Alessandria, Chieti, Frosinone, Ravenna, Virtus Lanciano e Pisa. Con il Ravenna ha ottenuto anche la promozione in Serie B nella stagione 2006-2007. A Pisa ha conquistato un'isperata salvezza in Serie C, ma con la squadra nera azzurra non è riuscito ad andare oltre ed è stato esonerato un anno fa. Pratica un 4-4-2 classico, a Lecce avrà il compito di risolvere una squadra reduce da tre sconfitte consecutive e scivolata fuori dalla zona play-off. Inoltre deve rilanciare un calciatore come Fabrizio Micoli e tirare fuori da tutti le potenzialità finora inespresse attraverso un nuovo credo tattico. Con la società avrà pianificato in questi primi incontri la campagna di potenziamento che sarà meglio definita nei prossimi giorni, non appena il nuovo tecnico vedrà dal vivo la reale situazione della squadra. A Lecce ritrova Sacilotto, conosciuto nel Ravenna, mentre a Pisa non si è incrociato con Daniele Mannini, il quale arrivò dopo il suo addio. A Lecce Pagliari porterà quasi certamente il suo vice Maurizio Tacchi, fratello di Oscar, ex calciatore del Lecce nella stagione 86-87. Finisce dunque l'era lerda. Il tecnico piemontese lascia la squadra giallorossa dopo nove vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte. Lascia la squadra al quinto posto per i merito con il Foggia e momentaneamente fuori dalla zona playoff.